Un sotto ufficiale dei carabinieri di soli 39 anni si è tolto la vita ieri sparandosi con la pistola di ordinanza. Il carabinieri era in servizio a Ribera, secondo quanto si apprende aveva fatto perdere le sue tracce da diverse ore. A dare l'allarme è stata la moglie del 39enne che ieri mattina, dopo non essere riuscita a contattarlo, ha chiamato i suoi colleghi chiedendo aiuto a loro nella speranza di trovarlo. Il 39enne è stato rintracciato senza vita, poco distante dalla sua auto lungo la strada che congiunge cattolica con Eraclea Minoa. Per lui non c'era già più nulla da fare, ignote le cause che hanno portato l'uomo all'estremo gesto. Minoa. Minoa.